Carrara liberata, Carrara liberata, è ora l'Italia! Oh Paolo! Che cosa vuole? Che cosa vuole? Non c'è nemmeno! Non c'è nemmeno! Non c'è nemmeno! Vieni! Vieni! Non farò diretta! Adornami! Vivero per tutti! Ce l'avremmo fatta! Oddio! Guarda con me! Sindaco! 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 Te va! Te va! Te va! Te va! Te va! Te va! Tutti a carriere! Tutti a carriere! E' un pezzo di merda! Deppa! Saremo ancora amici! Ma Ivan ha preparato la postazione col microfono? Non lo so, Ivan! La postazione col microfono mi ha detto James! Deppa, un selfie! Ora tutti a casa l'ha detto! Vai, venite! Fa partire il colo tutti a casa l'edio!